Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, la legge che autorizza le Regioni a utilizzare un meccanismo di contribuzione non legato al contratto funzioni antilocali, ma a quanto già previsto per il personale a supporto degli organi politici di Giunta e Consiglio, il trattamento giuridico-economico del personale torna così ad essere regolato dalla Legge 1 del 2009, modificata tuttavia nella parte relativa alla ripartizione degli oneri nel caso di assegnazione temporanea di personale presso o proveniente da altre pubbliche amministrazioni. Con voto unanime il Consiglio regionale ha deciso di abrogare la Legge 2 del 23, consentendo così di superare una questione che aveva animato non poco il dibattito politico e soprattutto una questione che coinvolgeva il personale della Regione Toscana. Con la legge che il Consiglio regionale ha approvato, anche a seguito del Decreto Legge 44 del 23, di pochi giorni fa, si è arrivati quindi a stabilire che il trattamento economico accessorio del personale, degli staff, degli organi politici, del Consiglio regionale e della Giunta possa gravare direttamente sul bilancio regionale e non più sul fondo del salario accessorio del personale della Regione Toscana. Questo ovviamente è un principio che opererà per il futuro, mentre per il passato, in particolar modo per l'anno 2022, si è stabilito di poter procedere, grazie a questa legge, ad un incremento del fondo del salario accessorio pari alle risorse necessarie per coprire il trattamento economico accessorio del personale degli staff politici. Si tratta quindi di un atto importante che permette di superare quanto era stato stabilito dalla sezione regionale della Corte dei Conti che aveva sospeso il giudizio di parifica lo scorso anno relativamente al rendiconto del 2021. Lo si era già superato con la legge regionale 2 del 23 che tuttavia aveva generato non poca discussione tra il personale della Regione. Oggi abrogando quella legge si mettono da parte anche tutte le questioni e le controversie che hanno caratterizzato il trattamento economico del personale, degli staff e degli organi politici. Un passo in avanti importante che permette però alla Regione Toscana di allinearsi anche alle richieste che sono state avanzate dalla Corte dei Conti. Sì, sicuramente l'approvazione di questa legge che di fatto va a sanare una situazione che era derivata da delle censure puntuali che aveva rilevato nei confronti di Regione Toscana la Corte dei Conti. Va a sanare che cosa? Quella che era di fatto una disparità di trattamento che vedeva contrapposte da un lato il personale di Regione Toscana e dall'altro lo staff dei gruppi politici. Una questione che ha naturalmente una caratterizzazione decennale e che è stata risolta solamente qualche settimana fa da parte del Governo. Tutto questo aveva generato un contenzioso, un contenzioso che naturalmente aveva coinvolto la Regione Toscana che nelle more di questa sanatoria, se così vogliamo definirla, aveva determinato una forte contrapposizione naturalmente anche con una forte contestazione da parte del mondo sindacale. C'è da dire una cosa, questa legge nasce sostanzialmente come una marcia indietro che si fa tenuto conto della normativa sopravvenuta a livello nazionale. Ciò non toglie che il metodo con il quale siamo arrivati a fare il precedente testo di legge a licenziale, il precedente testo di legge a gennaio è stato un metodo che ha visto poca concertazione, soprattutto nel confronto con il personale, sia delle strutture sia dei gruppi politici. Ecco io credo che per non dare l'idea che come dire si arrivi a fare delle norme che poi in un certo senso mettono delle toppe rispetto a situazioni che andavano forse gestite con una maggiore cautela, ecco io credo che questo deve insegnare soprattutto a chi ha responsabilità di governo che talvolta il metodo può naturalmente diciamo fare la differenza. Ecco questo io credo che sia una censura che mi sento di fare. La situazione l'abbiamo risolta ma non cambia il modo in cui è stata gestita. Una decisione unanime che tiene fede a un impegno quello di tutto il Consiglio regionale della Toscana di risolvere una questione relativa al personale, non soltanto quello a tempo determinato delle strutture politiche ma da una risposta nel contempo a tutto il personale della regione toscana che costantemente e quotidianamente lavora in tutte le strutture della regione mettendo in sicurezza delle risorse per i fondi accessori, delle stanze portate avanti dalle organizzazioni sindacali le quali noi abbiamo speso fin dall'inizio il nostro impegno politico come Italia Viva e come gruppo di maggioranza per fare in modo che tutto il personale della regione toscana abbia il livello di retribuzione che le compete rispetto alle aspettative che giustamente un dipendente aveva acquisito nel corso del tempo e nel contempo abbiamo dotato le strutture della politica di una dotazione così come è prevista da una legge nazionale in linea perfetta in condivisione fra tutte le forze politiche come quello che corretto che sia. Presentata nello stand della regione toscana al Salone del Libro di Torino, la proposta di legge al Parlamento, leggere liberi, progetto che prevede di introdurre un tempo di 15-20 minuti di lettura libera, individuale e silenziosa nelle scuole di primo e secondo ciclo di istruzione. Il testo di legge che il Parlamento toscano ha approvato all'unanimità all'obiettivo di dare alle ragazze e ai ragazzi la libertà di scegliere un testo e leggerlo in classe così da stimolare crescita, interesse e capacità di comprensione. Investire in cultura, investire in lettura vuol dire investire in libertà. Siamo venuti al Salone del Libro per presentare la nostra proposta di legge sulla promozione alla lettura. Chiediamo al Parlamento che approvi la nostra legge per consentire alle bambine e bambini, alle ragazze e ragazzi di poter avere uno spazio durante la loro giornata di studio in aula per poter scegliere un libro e leggere. Penso che tutto questo renda le persone più libere, più pronte a vivere il mondo. Noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo messo gli avanzi derivanti dalla riduzione dei costi della politica a disposizione dei comuni per sostenere iniziative rivolte alla lettura. Un successo enorme, più di 80 comuni della nostra regione hanno scelto di investire in questa direzione. Penso che ogni investimento culturale, ogni investimento nella lettura come la bellezza di questo Salone del Libro sia un modo per rendere le bimbe e i bimbe cittadini attivi, cittadini migliori. Quest'anno portiamo qua anche i nostri provvedimenti, non soltanto i nostri editori e i nostri libri. Abbiamo promosso una legge sulla lettura libera nelle scuole, l'abbiamo promossa e incardinata presso il Parlamento, presso la Camera e speriamo adesso che i parlamentari facciano la loro parte. È una legge che vorrebbe introdurre ogni giorno nelle scuole, in tutte le scuole del Paese, un tempo per la lettura libera perché i ragazzi collegano la lettura soltanto all'adempimento scolastico. Questo come sappiamo non sempre innesta un piacere e fa crescere una passione, vogliamo che la lettura abbia uno spazio tutto suo in cui loro possano recuperare un rapporto più piacevole, più di svago con la lettura e che li possa davvero appassionare poi da grandi e possa recuperare tanti adulti a un passatempo bello, appassionante ma anche utile per costruire una cittadinanza sempre più consapevole. È una legge di cittadinanza. Presentato nella Sala Fanfani di Palazzo del Pegaso, il libro intitolato Avrei voluto urlare, scritto da Pietrina Uggianu e pubblicato dalle edizioni del Faro. Il romanzo è una testimonianza sincera e coraggiosa che dà voce ai pazienti affetti da sindrome da dolore cronico diffuso attraverso la protagonista Pitti. L'autrice, con esperienza personale sulla propria pelle, si impegna a sensibilizzare sul significato di vivere con questa malattia invisibile che colpisce più di due milioni di persone, soprattutto donne, e ha un profondo impatto sulla vita quotidiana. Nell'occasione, il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni ha sottolineato l'impegno della regione nel riconoscere un percorso diagnostico e terapeutico per questa malattia. È una patologia sulla quale la Toscana ha fatto tanto negli scorsi anni. Abbiamo riconosciuto un percorso diagnostico-terapeutico. Stiamo cercando di implementarlo. Ormai in tutte le aziende sanitarie c'è un percorso, un centro di riferimento per la fibromialgia. Però, e questo è il tema della giornata di oggi, spesso la fibromialgia è difficilmente diagnosticabile, ma soprattutto è difficilmente creduta, perché è una forma che genera un dolore diffuso e ovviamente poi sul posto di lavoro, nei rapporti con i familiari, spesso chi è affetto da questa patologia, oltre a soffrire, deve farsi carico anche del fatto di non essere assolutamente riconosciuto nella propria sofferenza. Il libro di oggi è una bella testimonianza, importante testimonianza sulla vita di una paziente fibromialgica. Quindi è un modo per rendersi conto che cosa vuol dire essere affetti davvero a fibromialgia. È la voce praticamente di tanti fibromialgici, siamo circa 2 milioni e più, e quindi avrei voluto urlare proprio un urlo, diciamo, di richiesta proprio per far riconoscere questa patologia che è appunto la fibromialgia, che ancora oggi non è riconosciuta, come ben sapete, e non risulta nei LEA. Quindi ho voluto comunque dare voce appunto a tutti coloro che soffrono di sindrome da dolore cronico diffuso, che è appunto la malattia. Ma c'è la mia storia innanzitutto ovviamente, perché io penso che per poter raccontare agli altri bisogna prima raccontarsi, per cui chiaramente ho voluto raccontare quello che è la mia esperienza vissuta sulla mia pelle e quindi la malattia, quello che comporta essere malati da sindrome da dolore cronico diffuso, quello che significa vivere con la fibromialgia, una malattia appunto non riconosciuta, che chiaramente ti porta anche ad avere un impatto molto forte a livello sociale, perché spesso veniamo appunto emarginati, veniamo etichettati, non veniamo compresi, questo sia nell'ambito lavorativo ma anche proprio nell'ambito sociale di tutti i giorni, quindi nel quotidiano, ecco, quindi questo è. Mi trovo qui a presentare, ho ricevuto molto volentieri l'invito ed ho accettato veramente con piacere la presentazione di un libro che parla di un tema molto importante che è quello della fibromialgia, che come commissione regionale pari opportunità è sotto i nostri occhi, come tanti altri argomenti, perché purtroppo è una di quelle malattie che colpisce molto le donne e che fanno in modo che abbiano una vita ancora più difficile e difficoltosa, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Sappiamo che le donne hanno una situazione lavorativa sia come quantità ma come qualità anche peggiore di quella degli uomini e avere un fardello come quella della fibromialgia purtroppo comporta anche tante problematiche non solo nella gestione familiare ma anche proprio nel mondo lavorativo e quindi siccome noi ci occupiamo di donne e di ascoltarle e di cercare di portare alla ribalta le tematiche che ci attengono, noi come commissione siamo molto partecipi di questo argomento come di tanti altri. La Commissione Europa del Consiglio regionale ha incontrato le classi terze dell'Istituto Superiore Benedetto Varchi di Montevarchi che si sono aggiudicate il finanziamento da 30 mila euro offerto dalle azioni Jean Monnet per stimolare l'insegnamento e la ricerca sull'Unione europea. Il progetto, a cui gli studenti hanno dato il nome di Miendeu, viene proposto nell'ultimo triennio della scuola. In questa prima fase del progetto, gli studenti si sono focalizzati su quello che l'Europa può offrire ai giovani in tema di studio e lavoro, producendo video e presentazioni inerenti quattro ambiti, Interrail, Erasmus Plus, Corpo Europeo di Solidarietà e Università all'estero. È con grande soddisfazione che abbiamo aperto anche questa nuova fase di lavoro della Commissione Europa, anche qui con un lavoro condiviso, un lavoro che tiene di conto anche delle energie e soprattutto delle idee che nascono agganciate all'Europa sul territorio della nostra regione. Quindi davvero un'iniziativa da ripetere e un'iniziativa dalla quale abbiamo soprattutto noi imparato molto e credo che questo sia un elemento positivo da replicare e far crescere ancora di più. Oggi è stato molto bello ricevere i primi 80 studenti del liceo Benedetto Varchi di Monte Varchi che incontrano il Consiglio regionale, le commissioni regionali, in particolare la Commissione Europa e la Commissione Istruzione e Cultura. Stanno facendo un bellissimo progetto triennale di approfondimento e conoscenza della dimensione della cittadinanza europea, del loro essere europei. Oggi li abbiamo ascoltati, ci hanno fatto vedere i primi risultati del loro lavoro, video molto ben costruiti, autoironici, intelligenti ed è stato bello dialogare con loro e essere a loro disposizione. Credo che una politica più vicina alle esigenze dei cittadini, più consapevole di che cosa vuol dire abitare le istituzioni scolastiche anche da studenti, oggi possa essere più utile anche alle decisioni pubbliche e agli indirizzi politici che noi dobbiamo determinare ogni giorno. Ed è stato molto bello raccogliere anche le loro suggestioni, come dare loro la dimensione, una dimensione della politica che forse non conoscono, non immaginano e che può far venire voglia anche a loro di condividere l'impegno nelle istituzioni. Erano anche molto belli e simpatici, quindi una bellissima mattinata che ripeteremo poi con altri 80 ragazzi del medesimo percorso. Sono Sara Tartaro, una docente di lingua inglese presso l'istituto Benedetto Varchi. Sono anche referente di un progetto chiamato Jean Monnet, un progetto che è stato finanziato dalla Comunità Europea. Il progetto si articola su tre anni, quindi viene proposto nell'ultimo triennio della scuola. Si articola in tre fasi. La prima fase i ragazzi si sono focalizzati su che cosa l'Europa propone ai giovani, quali sono le offerte che l'Europa dà ai giovani. Nel secondo anno invece gli studenti si focalizzeranno sulle istituzioni europee, quindi il loro funzionamento, quali sono. L'ultimo anno, quando i ragazzi ormai sono più grandi e si avvicinano anche all'esame di Stato, che è chiamato anche esame di maturità, ci sembrava opportuno che loro riflettessero su che cosa invece loro, come studenti, come giovani, possono dare all'Europa, consapevoli del fatto che non ci sono solo diritti, ma ci sono anche doveri. Sì, è importante questa mattina, ma soprattutto è importante il lavoro che stanno svolgendo i nostri giovani all'interno del percorso di studi che si compie appunto nell'Istituto di Montevarchi. È importante che i ragazzi si avvicinano alle istituzioni, in questo caso c'è una bella unione, perché c'è un'unione fra l'istituzione della regione toscana e l'istituzione europea. Io invito a approfondire questo argomento perché l'Europa forse noi non la conosciamo così bene, in questo momento i giovani stanno studiando proprio per avvicinarsi alla comunità europea e capire quello che succede e quelli che sono i meccanismi. Noi come Commissione siamo andati a Bruxelles, abbiamo capito tanto di più e diamo sicuramente un senso maggiore al ruolo che svolgiamo all'interno della Commissione, quindi il lavoro che stanno facendo i nostri giovani e il supporto che forse potranno anche darci con questo percorso di studi sarà per noi fondamentale, ecco perché oggi siamo ad ascoltare il lavoro che stanno svolgendo. Molto importante questo incontro tra i giovani della Scuola di Montevarchi e la Commissione Europa. Questa è la generazione dell'Erasmus, la generazione di ragazzi che hanno bisogno di dimensioni ampie, quindi sentirsi europei, ricercare un rapporto per capire quali sono le opportunità che l'Europa offre ma anche come si può essere dei giovani cittadini europei del futuro credo che sia molto importante, sia molto in linea con il lavoro che sta facendo la Commissione Europa che abbiamo fortemente voluto nell'ambito di questa legislatura. In bocca al lupo a questi giovani europei l'Europa è sicuramente un'opportunità, è la nostra dimensione alla quale dobbiamo guardare con speranza e con fiducia, ovviamente rafforzando e coltivando quello che è uno spirito certo di italiani ma nell'ambito dell'Europa.